È sbocciato come un tulipano, Luca Garritano. Il trequartista, adattato ora a mezzala, si è medesimato perfettamente nel nuovo ruolo del 3-5-2. Il modulo sta non solo valorizzando le corsie laterali, ma è proficuo in termini di prestazioni e punti. Sì, lo stiamo facendo bene, stiamo raccogliendo comunque i frutti di quello che facciamo in allenamento, con le spiegazioni del mister. Per tutti quanti stiamo cercando di rendere al massimo e credo che le prestazioni siano arrivate. Devo ancora migliorare molto su tanti aspetti, però credo che per il momento lo sto interpretando in maniera giusta e corretta. C'è tanto da migliorare e spero di poter lavorare su questo nuovo ruolo. Dopo i match più che convincenti con Sassuolo, Ascoli e Roma, i tre punti sono arrivati nel match di domenica contro il Carpi. Si è così interrotto un digiuno lontano da casa, che perdurava dalla trasferta di Abbellino della scorsa stagione. Sicuramente abbiamo fatto un'ottima prestazione e dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in queste settimane.